Ci siamo, perché ora anche con la squalifica di Conor Squizzato aumentano le possibilità di rivederti in campo e dopo dieci minuti di Pesaro, come ti senti? Mi sento bene, ovviamente voglio giocare di più e vediamo, magari stavolta mi toccherà giocare qualche minuto in più. Dal punto di vista mentale, sei un po' triste per questi minuti che mancano o sei contento per un Pescara che va alla grande? No, sicuramente sono contento per la squadra, che stiamo andando bene, stiamo andando forte, poi chiunque vorrebbe giocare sempre di più, più possibile. Significa che guardi anche il mercato a gennaio se qui non dovesse esserci spazio? No, ancora non guardo niente, per adesso voglio giocare e voglio che la squadra faccia il meglio possibile. Torniamo a Pesaro, è stata una partita strana perché il Pescara ha dominato ma ha perso, tu che idea ti sei fatto? Che si è visto innanzitutto un grande gruppo che anche nell'infiorità numerica siamo riusciti a giocare come volevamo noi, a dominare la partita che è una grande cosa. Poi purtroppo alla fine contano i risultati ma dobbiamo portare questo aspetto positivo dopo quella partita. Ti chiedo un'ultima cosa Giorgi, quest'anno la stagione era iniziata benissimo perché a Terni secondo me hai fatto una delle tue migliori partite in maglia bianca-azzurra, poi le cose non sono andate come tutti speravano, perché ti manca questa continuità? Non so, ma qui se l'avessi saputo magari non stavo in sereccino. Però sei pronto per tornare ad emozionarti con la maglia del Pescara? Speriamo di sì, speriamo.